Ok, action! Ora si può tornare dentro e prima fare l'intervista di subito. Ok, ma se nel frattempo ci sono le ragazzine che devono prendere l'acqua... Andiamo a prendere l'acqua, sì, giusto. Action! Abbiamo fatto un piccolo test per capire come usceva la luce, una specie di pre-light. E questo sarà il punto dove faremo l'intervista. Ciao! 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 Il fatto di aver seguito durante questi giorni la vita delle donne nelle loro battaglie legate appunto alla gestione dell'acqua, la lotta proprio per l'emancipazione di loro stesse, delle future generazioni, è stato interessante proprio perché c'è stata una totale immersione nel loro stile di vita, cioè sono donne che comunque hanno una missione nella vita. Grazie a tutti.